Non si sa, Martina Delfino la schiacciatrice della GECOM Security Perugia che viola il campo della SGM Graficonsul San Mariano 3 a 1, una gara però iniziata in salita perché il primo set soffertissimo se sono aggiudicate le patroni di casa poi siete uscite alla distanza Sì, è stata una partita, già i presupposti annunciavano alta tensione quindi nel primo set siamo partite magari un po' contratte perché comunque si voleva portare la posta in paglio a casa quindi magari c'è stata un po' di fretta nel voler fare il punto e quindi ci siamo fatti prendere da qualche errore in più poi dopo ci siamo sciolti, ci siamo sbloccati nel secondo set, anche quello tirato però abbiamo concluso a nostro favore e da lì poi è stato un entusiasmo dietro l'altro, un'azione dietro l'altro piena di entusiasmo Una partita giocata sicuramente sul filo dei nervi e contro un San Mariano che ha avuto in Babbi veramente un terminale efficacissimo Difficile contrastare una giocatrice come lei? Sì, uno schiacciatore che a un certo punto attaccava tutte le posizioni però noi non ci siamo disunite piano piano abbiamo cercato di mettere le nostre difese nei punti chiave insomma l'abbiamo anche un po' contenuta e poi noi abbiamo fatto il nostro giocando di squadra come sempre È un Perugia che finalmente si sblocca con una bella vittoria in trasferta, cosa significa questo per voi? Vittoria in trasferta e vittoria del derby, quindi direi che vale anche doppio rispetto alle altre trasferte e quindi è una buona inizione di fiducia e carica per continuare il campionato perché comunque le partite sono sempre un terno all'otto, abbiamo visto che tutti possono vincere, tutti possono perdere contro tutti, quindi avanti così sicuramente con la carica di questa sera Grazie